Una vita cristiana autentica non può che essere una vita trinitaria nel suo svolgersi e nella sua meta finale, perché il suo modello è la comunione delle tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, e in particolare lo stile con cui si amano, una con l'altra, una per l'altra, una nell'altra. Alla folla di migliaia di persone che lo ascolta in una piazza San Pietro assolata e calda, Papa Francesco ha parlato del mistero della Trinità nel giorno della sua solennità liturgica e ha ribadito che Trinitario deve essere anche il modo in cui la Chiesa vive la sua missione evangelizzatrice. Francesco, che ha invitato la piazza a fare con lui un collettivo segno di croce, ha sollecitato i cristiani a tenere sempre alto il tono della nostra vita, ricordandoci, ha detto per quale fine, per quale gloria noi esistiamo, lavoriamo, lottiamo, soffriamo. Siamo chiamati a vivere non gli uni senza gli altri, sopra o contro gli altri, ma gli uni con gli altri, per gli altri e negli altri. Questo significa accogliere e testimoniare concordi la bellezza del Vangelo, vivere l'amore reciproco e verso tutti, condividendo gioie e sofferenze, imparando a chiedere e concedere perdono, valorizzando i diversi carismi sotto la guida dei pastori. Francesco ha rivolto un pensiero alla Vergine a conclusione del mese di maggio e dopo l'Angelus ha ricordato la messa e la processione da lui presedute giovedì prossimo a Roma, nel giorno della solennità del Corpus Domini.